Su Riccardo, che sbraccia! 7-4, buona la battuta di Simone Rosati. In battuta ancora lui, prendiamo campo. Valle out. 8. 9-8, battuta Riccardo, batte Flott. Su Simone, buona ricezione, Maruotti di Palleggio. Palletta! A fianco da Superdino, le mani protese al muro. Battuta Gabriele, Maruotti, per gli amici, Batman. Su Riccardo, buona ricezione. Palleggiadino bene. E trova la porta chiusa Riccardo. Gran muro di Gabriele Maruotti. Cambio campo. Gabriele non ha la chiave per aprire la porta. E Riccardo ci sbatte addosso. Va bene? Ancora lui, Gabriele Maruotti. In battuta. Agli 8 metri. Ancora su Riccardo. Di Baccar. La tiene? Eeeh, Gabriele mi ha fatto perdere tutta la telecamera qua. Ho preso la sabbia a sto giro. Gabriele la tira a rete, una palletta che la poteva mandare di là, di seconda. Di 9. A me? Buona l'attacco. Buona ricezione. Vardino corre per il campo. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Brutta giocata. Simone di Baccar mette una palla sulla rete, ma di là. Superdino va su in cielo e la tira. La tira. La tira. La tira. Punto. Bandana azzura. In battuta. Superdino. Maruotti. Oh. Non casca niente. Due aspirapolveri umani. Raccolgono tutto. Panni stesi. Tutto. Sabbia. Terra. Punteggio 10-7 per loro. In battuta. Simone. Rosati. L'Aquila. Tu. Riccardo. E andiamo. Palla a filo di seconda. Cannonata dell'Aquila che va in alto e la tira. Palla a terra. 10-8. Battuta. Simone. Non ho capito io. Non ho capito questo. E' bene con due mani sto Baccar. Ma che sta a far vigile? No, 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 no. Riccardo in battuta. Batte il salto Riccardo. Oh, get out. La palla è in zona di conflitto. Un metro dentro. Riccardo ancora in salto. Quattro punti di Riccardo in battuta in salto. Simone. Simone. C'è il cambio campo. Flot. Simone. Palleggia Maruotti. Tira a lungolinea Simone. Tocca il naso. La palla è in campo. 13-9. Coppia fortissima. Bandana azzura con Riccardo. Coppia affiatata. Non hanno mai giocato insieme. Ancora su Riccardo. Palleggia Dino. La palla è out. Tenta un colpo agli 8 metri Riccardo. Ancora Simone in battuta. 13-10. Bandana azzura Riccardo. E c'ha avattata. Simone. Rosati. Al centro. Forse è sulle mani di Dino. Non lo so. 13-11. Punto di qua. Molto sportivi. Il gruppo. battuta su per Dino. Eccolo. Su Simone. Buona ricezione. Palleggia Maruotti. Palletta che Dino va. E senza muro. Botta. Botta. Dino tira. Difende Simone. Tira su Maruotti. E Simone la scaraventa a terra. 14-12. Gabriele Maruotti in battuta. Ancora tu Riccardo che sbraccia. Eis. Sporco. Da lavare. 14-13. Si muove tutto qua con il vento. Oh Maruotti. Prende la rete. Rimane di là. Errore in questo momento che non bisognava fare. Fare. 15-13. battuta Riccardo. Cercherà il salto? Teniamo sta palla regà. Teniamo sta palla. Eis di Riccardo. Oh. Sare un po' più larghi però. Sare come cose. Gran palla di Riccardo in battuta. Bene Riccardo sulle mani di Simone. Palla a terra. 17-13. Gli esperti della palla a volo vanno in fuga. Buona risessione. Diagonale potente. Stai pure in ritardo a muro Simo. Di Riccardo. 18-13. Dai, dai. Questa le palla, dai. Tiriamo su a mezzo al campo regà, dai. Out. 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 Di poco, di cà. Vero? Sì, sì. Eccola, guarda. Guarda. Out. Era un'azione da palla a volo. Il ragazzo gioca poco a bizzo. Va bene, va bene. Accettato. Va bene, va bene. Vai contesa, vai contesa. Dai, cazzo. Stiamo con l'usuale. Dai, dai. C'è una palla contesa. Sportivamente le squadre si accordano così. Oh, ma perché battete su Riccardo? Non ho lepito. Scegliamo un lato però quando andiamo a murare. La battuta super Dino. Fa la corta in rete. La battuta di Dino. Una battuta affrettata. Sì. Ha fatto una battuta di corsa. Battuta a Gabriele Maruotti. e andiamo, andiamo, e andiamo. 19-16, cambio palla. Cambio campo, Gabriele. Ce l'ha fatto del fallo. C'hai? Ah, del fallo. Era fallo. Un battuta a Maruotti. Suddino. Di Bacher. Grande palla di super Dino. Un diagonale al centro del campo. 2016. Battuta a Riccardo. L'uomo tuttofare. Salto Flot su Rosati. Buona. Buon rientro, ragazzi. Ci siamo atti a lungolinea di Rosati e Simone. Ultima. Ultima. Simone. Suddino. Buona ricezione. Bella, Simo. Andino, vai. Sì. Buona. Vince il contrasto a muro, Batman. No, no, no. Il contrasto ha visto, non vince. Ma te che? Vai in avanti a su. No, no. E' buona questa? Buona, buona. Sì. Batman va in alto, con le ali, batte. Un metro suddino. Oh. Che è successo? 10 o 4. Io mica ho visto. Sua riga di? Sì. Riga di Simone Rosati. 19, 20. Maruotti. Questa è la palla che serve, che scotta. Questa è la difesa, eh? E chiude. Super Dino, con una palla sulle mani di Maruotti. Poi vediamo qui dal Sangallo Cap di Nettuno, sull'1-1. Gran punto di Maruotti. Buona la battuta di Simone, su Dino Varone. Difesa! Di Rosati. E poi va in alto, l'Aquila, dove lui solo può fare il nido. Troppo alta, sì. Grazie, va. Nocchia profonda di Rosati. 2-1. Battuta da Simone, Rosati, su Dino Varone, su Perdino. E' un gran colpo della Volpe. Dino Varone, la Volpe. Però se non guardo dentro, non è andato in giro con la mano. Se non guardi dentro, con la mano va in giro, via sabbia. Punteggio 2-2 pari, in battuta, su Perdino. Ah, stanno qua. Eccoli qua, ce l'abbiamo. Gabriele Maruotti, Batman e Simone, Rosati. Oh, oh, oh. Gran palla. Ancora un colpo di biliardo di su Perdino. Mette la palla all'angolo, al triangolo delle Bermuda. Palla in campo. Ma che fai? Eh? Perdino, giù da Volpe. Come? A Volpe è quella la forza mia. Danna, via qua che ti faccio vadovisare. Eeeh! Botta di chiappe! Perdino, Varone! Maruotti, Simone, palla alta per Maruotti. Buona! Oh! Due punti! Due palle sul nastro. L'esperienza serve anche a questo. Calcolare il vento, calcolare tutto. 5-2 con due botte di nastro. In battuta, Dino, Varone, supera. Su Simone, Rosati. Di secondo tocco, Batman. Va sulle mani di Riccardo, senti che è ventilata. Forza sta battuta con sto vento adesso. Gabriele Maruotti in battuta. Bisogna di conflitto. La riceve Riccardo. La palla va sul nastro. Varone non parte con le gambe. Punto ancora. 5-4 Riccardo Superdino. Oh, palla sulla riga. Diagonale, fortissimo, strettissimo, buonissimo. Punto. Maruotti, Rosati. C'è l'arbitro di Riga che mette a posto la risposta. Battuta Maruotti. Zona di conflitto. Riccardo, Superdino. La palla è out. La palla è out di Riccardo. Tenta il colpo potentissimo. E' out di 62 centimetri la palla di... In battuta Superdino. C'è confusione chi va in battuta. Battuta Riccardo alla fine. Simone, ricezione buona. Cannonata dal centro di Simone, Rosati. Riccardo tenta la difesa. La palla va sul bagnasciuga. Battuta Simone. Riccardo suggerisce un diagonale a Varone, ma lui esplode con un lungo. Lungo in linea, potentissimo. Sette pari. Ma questi che fanno poi? Fanno terza e quarto posto i sconfitti, là? Battuta Superdino. Vediamo chi cerca. Cerca Simone. Lo trova. E va in alto insieme a Riccardo. Forse l'Aquila un po' più in alto. Vince il contrasto a Muro. 8-7. Va lui in battuta. Un certo Batman. Ricezione ottima. Va Simone che la tiene. Maruotti la palleggia. E' diagonale e strettissimo dell'Aquila. Simone e Rosati. Bisognava andare a giocare a bici davvero questo. Laura, Simone, no? Sì, secondo me sì. Vedi più bici che... Guarda lui potenzialmente... Potenzialmente... Diagonale fortissimo. Di Superdino. Uno dei più forti. Di giovani? Eh, giovani è in battuta. Non lo conosce, non c'è già 30 anni. Poi vediamo, st'inverno glielo facciamo fare. Se troviamo un appoggio, veni cominciati a salenare. Riccardo in battuta, batte salto, prende la rete. Punto per Batman e l'Aquila. Buona la battuta di Simone. Di Baccar. E ancora un colpo di Varone. Ottimo, Varone. E' venuto qui al Sangallo Cap, Varone, dicendo che non era allenato. Qui si sta... Si sta dimostrando allenatissimo. Questo c'ha la palestra sotto casa. Oh, oh, oh! Palla! Si dorme su questa palla. Ma chi sta portando qua? Dino, mira sulla... Sul nastro. E' un tiratore scelto. Simone. Buona la palla di difesa, di ricezione. Buono l'appoggio, buono il palleggio. Punto. Mi sono stancato il braccio. Buono ANSI coil. Buono. Buono l'appoggio. Buono. Buono.